perché il tag non è stato attaccato alle persone che si sono iscritte al webinar bella domanda ora che è successo è successo che mentre ero in consulenza una persona mi ha fatto notare il cliente mi ha fatto notare che nella sua strategia le persone quando andavano su una pagina e si iscrivevano al webinar avrebbero dovuto ricevere un tag e ricevendo il tag sarebbe partita poi la sequenza di mail che gli nutriva gli dava le informazioni prima del webinar stesso una logica o una strategia secondo me azzeccatissima interessante però dov'è il problema che ci siamo accorti di un problema ci siamo accorti il fatto che il tag non era stato applicato il leader potrebbe avere disabilità di cookies nel suo browser in particolare per chi fa pubblicità su facebook forse ha già avrà letto il messaggio cioè da quando apple ha modificato in safari e anche negli iphone la gestione dei cookies molto spesso sia facebook ma sia cartra hanno difficoltà nel memorizzare le visite delle persone l'attribuzione di tag quindi quello potrebbe essere un motivo se sta navigando in anonimo se ha disabilità di cookies il tag non viene applicato in questo caso ma soprattutto l'attribuzione del tag quindi della di quella variabile di quella opzione che determina l'azione delle persone funziona solo se il leader conosciuto dal tuo account cioè se io vengo per la prima volta sulla pagina del sito stefano benvenuti punto com e non sono mai venuto prima anche se ho i cookie abilitati ok può cartra può provare a taggarmi però realmente non è sempre efficace perché solo se io sono già conosciuto quindi se cui se cartra mi riconosce può attaggarmi se la prima visita non viene attribuito il tag ti è mai capitato di andare su un form di una pagina e vedere i tuoi dati già registrati già visibili ecco vuol dire che il browser e cartra hanno parlato e hanno comunicato i tuoi dati in modo tale che il form viene semplicemente già appopolato legare il lead ai tag per la prima volta dopo che dopo che compiono l'azione la prima azione di registrazione è l'esimpe lega i tag i lead ai tag dopo che la prima volta che compiono azione ad esempio la registrazione questo è il modo migliore quindi che è successo noi abbiamo modificato la campagna di di questa persona andando a fare in modo che dopo che la persona ha compilato il form gli viene attribuito il tag e parte la sequenza non il tag attribuito sulla pagina che se tu vai in nelle pagine vai nella sezione seo parameters vedrai che in settings scusa in settings hai anche la possibilità di taggare le persone che vedono la pagina ma solo se sono conosciute vengono taggate altrimenti non vengono taggate quindi spero di aver risposto anche alla domanda di paola